Un bel pezzo, una bella musica, un bel accompagnamento, l'unica notte dolente, mi è sembrato il cantante, l'ho visto troppo teso, non ben intonato, poi a giuro punto se ne andava in giro, non ho capito se era per nascondersi, oppure se aveva vergogna, o che cosa, cosa è successo?